Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi inizieremo con un nuovo formal, ovvero detto fatto domotica, ovvero prenderemo i vostri commenti che ci lasciate sotto i nostri video e anche vi invito a commentare sotto questo con le varie richieste e cercheremo di rispondervi nella maniera più semplice possibile, dandovi proprio delle soluzioni tangibili. Quindi bando alle cianci io direi di partire con il primo commento. Il primo commento è di Stefano, il quale ci chiede come attraverso uno Shelly Motion 2 sia possibile accendere le luci di un paio di stanze, di un tot di stanze, andando a fare un'automazione HA che però considera il fatto che ci siano o meno illuminazione in quanto lo Shelly Motion 2 ha un sensore di luminosità, quindi sotto una determinata soglia accenda queste luci piuttosto che non le accende e inoltre vuole inibire questo tipo di funzionamento qualora una persona accenda tramite pulsante fisico la lampadina, quindi che non si spenga più ad esempio dopo un intervallo di tempo predefinito, perché qualcuno effettivamente ha utilizzato un tasto. Quindi adesso andiamo a vedere come possiamo risolvere questa problematica del nostro utente. Allora per prima cosa ragazzi ho aperto la mia istanza di HA, questa automazione la andremo a fare però su Node-RED. Questo perché? Perché è più semplice da spiegarvi e soprattutto perché vi basterà installare qualora non lo aveste in HA la donna di Node-RED e la potete fare direttamente anche voi da lì. Allora, quindi per risolvere il problema del nostro amico dobbiamo avere sicuramente un PIR, possibilmente, in questo caso il nostro amico ha uno Shelly Motion 2 che ha un ritardo purtroppo di un minuto di reset dell'evento, però io vi consiglio per automazioni sulle luci di utilizzare piuttosto una cara, una cara PIR abbinato a un lux sempre della cara, quindi quello che va a individuare quanta luce effettivamente c'è nella stanza. Se invece avete comunque lo Shelly Motion Sensor 2, che comunque vi lascio il link in alto in descrizione per la recensione che abbiamo fatto la recensione, potete comunque utilizzarlo ma vi dovete ricordare che comunque c'è questo ritardo di un minuto. Però avete incorporato anche il sensore lux. Ok, quindi dobbiamo avere questo e soprattutto per la luce che intendiamo monitorare ovviamente dobbiamo avere a meno uno Shelly che sia collegato anche fisicamente al tasto di accensione, oltre che ovviamente in output alla lampadina che possiamo accendere o spegnere. Quindi una volta che abbiamo questi tre entità configurate, per quanto riguarda lo Shelly dobbiamo averne anche un'altra. Allora, prima di tutto lo Shelly dovrà essere configurato possibilmente in MQTT. Dopodiché adesso vi faccio vedere un esempio di cosa bisogna configurare per intercettare il bottone. L'esempio è sulle cover, ma poco cambia. Allora, per intercettare un bottone abbiamo comunque un evento che viene scatenato lato MQTT. Ok, quindi le cover, oltre ad averle sotto il file di configuration cover, abbiamo anche aggiunto una parte sotto binari sensor che sta a identificare se il bottone è premuto o meno. Quindi adesso andrò nel file di configurazione del binari sensor e andrò a cercare... vediamo se lo troviamo qua all'interno, andando su Edit Find, tapparella. Eccolo qua. Queste vanno a intercettare, come vedete, la pressione dei tasti su, in questo caso input 1, giù input 0, del nostro tasto. Stessa cosa possiamo tranquillamente fare con uno Shelly, per esempio, 1PM che intercetta il nostro tasto quando è premuto o meno della luce, in questo caso. E quindi ci ridà un pelo a di on, un pelo a di off, direttamente sulla nostra entità in questione. Quindi qua io l'ho chiamato ad esempio input 1 tapparella sala. Questo perché? Perché in alcune automazioni che avevo già fatto. Se l'utente va ad agire sulla tapparella in modo manuale, la tapparella disabilita tutte le automazioni che ad esempio ci sono per il sole, per non far entrare solo a determinato orario, la bassa del 25, il 30%. Insomma, il concetto applicato sulla tapparella ovviamente si può applicare anche su una luce. Quindi andiamo adesso a, una volta che vi ho spiegato quali sono le entità necessarie, oltre ovviamente all'entità peer che dice se passa qualcuno o non passa qualcuno, e all'entità lux che dice quanta lux c'è in quel momento nella stanza. Queste sono le tre entità fondamentali. Ora andiamo in node red per appunto fare questa automazione. quindi qua prenderò l'istanza di node red mia. Andremo su ad esempio demo, esatto, un tab dei corsi che avevo riservato. Allora, prima di tutto dobbiamo andare a prendere appunto queste entità. Quindi quando si verificherà l'evento peer, quindi dobbiamo utilizzare un event state. Andiamo a verificare anche che il current state della lux è di un determinato tipo. Io inizio a mettere dentro i blocchetti, giusto per farvi capire. E oltre a questo andiamo a verificare che effettivamente non sia stato comandato a mano. Ok? Quindi lo mettiamo qua, quindi che non ci sia il bottone. Dopodiché andremo a chiamare il servizio, in questo caso di accensione, quando si verifica appunto un evento. E ne metterò dentro anche un altro nel caso in cui la debbia spegnere. Però quando la spengo, la spengo solo se il current state del tasto input 1 non è stato premuto. E la spegnerò ad esempio dopo due minuti dall'accensione automatica. Quindi come faccio a fare questa cosa? Vabbè, semplicemente posso farla in mille modi. Adesso vi faccio vedere la più semplice. Metto un delay che attaccherò all'evento peer che di fatto va ad accendere la luce. Se voglio anche essere sicuro che effettivamente questa luce sia accesa, invece di attaccarlo subito qua, lo andrò a attaccare quando chiamo il servizio di on. Configurerò questo blocchettino che deve aspettare per esempio due minuti prima di andare a spegnere la luce. La spegnerà, quindi andrò da questo altro blocchettino su current state solo se il tasto input non è stato premuto. E se il tasto input non è stato premuto chiamerò il service per appunto spegnere questa luce. Ovviamente vanno configurati questi blocchettini. Adesso vi sto spiegando velocemente la logica. ok? Quindi anche qua, quindi dal peer andrà a verificare ilux, ilux andrà a chiamare la diciamo la luce che si accende, quindi un servizio che mi accende la luce. Quindi state change, quindi andiamo a configurare prima di tutto cosa deve cambiare. Quindi un peer, adesso metto un peer qualsiasi, che potrebbe essere per esempio quello dello studio, dove sono io. Quindi cerchiamo il peer dello studio, tra le varie entità. Quindi qua metterò peer studio, esatto. Is on, quindi quando rileva qualcuno. Perfetto. A questo punto spostiamo meglio i blocchetti così vedete bene. Già è collegato sul primo, current state, andrò a verificare ad esempio una qualsiasi lux. Adesso è giusto per farvi vedere. Quindi ad esempio il lux bagno è maggiore o uguale a per esempio 100. Ok? Quindi qua avrò verificato la mia lux. Se è maggiore di 100 andrò a spegnere, quindi tramite servizio. In questo caso è switch. Scusate. È il domain che è lo switch. Il servizio invece sarà turn on e dovrò mettergli l'entità che potrebbe essere tranquillamente sempre uno switch luce diffusore taverna. Io ho qua tante cose. Vediamo se c'è una qualsiasi luce. Faccio prima scriverlo. Esatto. Tipo luce antibagno. Adesso è giusto per fare un esempio. Ok. In questo caso lo accendo. Quindi nel momento in cui si accenderà partirà il delay di due minuti che aspetta e nel caso in cui l'input, quindi quello che vi ho fatto vedere prima, in questo caso io adesso metto l'input delle tapparelle che era un binari sensor.input esatto, ad esempio tapparella camera, input 1 tapparella camera, quindi se qualcuno premerà e quindi automaticamente rimarrà in on quell'input, ok, in questo caso, allora non spegnere nulla. Quindi lo devo togliere di qua perché uscirebbe di qua. Se è acceso non deve fare niente. Se invece non è stato utilizzato il tasto, andrò a chiamare, come abbiamo fatto prima, il mio switch per spegnere appunto la luce, quindi con l'entità, luce, qualsiasi antibagno, ok, questa qua. Ok, quindi Stefano, questa è l'automazione semplice per poter accendere sulla base di un evento peer, sulla base di un lux, una qualsiasi lampadina e spegnerla dopo due minuti solo nel caso in cui non sia stato premuto il tasto. Ovviamente perché se nel momento in cui questo tasto invece è premuto, è stato attivato dall'utente, non andrà a spegnerlo perché uscirà da questa parte. Poi ovviamente si può continuare l'automazione con qualsiasi cosa, quindi per esempio attendi ancora 10 minuti e dopodiché spegnila, piuttosto che qualsiasi altra cosa. Ecco, ragazzi io vi dico che per le automazioni sulle luci i peer non hanno molto senso perché diventa un problema capire se una persona è ancora presente nella stanza o meno. Ci sarà a breve una recensione nel nostro canale su un fantastico sensore che si chiama CaraFP1, che è un sensore che emette delle microonde, che serve di fatto per determinare se è una persona ancora in stanza o meno. E questo sensore, unito al peer, è ottimo per gestire le automazioni sulle luci. Il nostro amico Stefano ci chiedeva anche come era possibile impostare direttamente una potenza a livello di luce, quindi light, impostato a una determinata potenza, quindi non si utilizzerà switch in questo caso, ma si utilizzerà il servizio light e nel turn on qua vediamo che è possibile inserire una serie di opzioni. Quindi tramite ad esempio questa qua andremo a indicare il 25% perché il nostro amico Stefano ci chiedeva al 25% una led strip, quindi in questo caso basterà impostare il servizio facendosi caricare ad esempio load sample data, andando qua, poi è possibile cancellare quello che non serve e tenere solo quello che serve. Quindi nel nostro caso qua metteremo il brightness e metteremo 25%, ok? Quindi questo è se si vuole accendere la luce a una determinata potenza. Stessa cosa ad intervalli di ore, cioè accendere al 25% solo se sono determinate ore, questa cosa si può fare sempre attraverso node red andando a indicare un intervallo di tempo, che adesso vediamo se ho già io qualche automazione ad esempio per farvi vedere come si impostano gli intervalli di tempo, ecco utilizzando questo blocco dalle 10 alle 22 per esempio lo possiamo mettere qua e dirgli che la luce sarà spenta solo se è all'interno dell'intervallo di tempo 10-22. Time switch node si può anche installare qualora non ce l'avete come blocchettino, ok? Quindi il blocchettino time switch è questo qua, che è possibile comunque installarlo. Bene, con questo spero di aver risposto al nostro amico Stefano. Ora passiamo al nostro secondo e ultimo commento barra richiesta che ci è pervenuta e il nostro amico Mauro ci chiede come sia possibile andare a navigare nel nostro broker tutti i messaggi MQTT ed eventualmente capire attraverso appunto la lettura di questi messaggi MQTT che altre entità sia possibile includere nella nostra istanza H.A. Allora bene ragazzi, per poter far questo prima di tutto è necessario installare un'utility che è chiamata MQTT Explorer. Una volta installata questa utility, che comunque vi lascio il link in descrizione, si potrà aprire, adesso infatti l'andiamo a vedere. Andiamo a inserire l'indirizzo del nostro broker MQTT e andiamo a fare appunto il collegamento tramite user e la password della porta. Quindi mi collegherò adesso al mio broker MQTT e come potete vedere qua posso andare ad esplorare tutti i miei tag, quindi tutte le mie periferiche che vanno a pubblicare le informazioni appunto sul broker. Ci saranno delle informazioni che sono storicizzate e sono le informazioni cosiddette retain, cioè che hanno un flag di retain impostato sul client. Ad esempio sugli shell è possibile impostare che le comunicazioni sono di tipo retain, cioè rimangono persistenti sul database. Se invece non avete appunto queste impostazioni, all'inizio non vedrete assolutamente nulla. Pian piano che il MQTT Explorer è attivato inizierà a ricevere i messaggi, perché lui si sottoscriverà la ricezione di questi messaggi al broker MQTT e quindi li vedrete apparire qua. Per esempio andando negli shelly possiamo vedere come questa presa al suo interno ha N.000 informazioni sotto i vari relay. Per esempio sulla posizione 0 ci dice che è on e ci dice quanto sta consumando in questo momento è un contatore dell'energia, piuttosto che quello che vedevamo prima, gli input in questo momento, se il tasto è schiacciato o meno, addirittura gli input event. Ora, come possiamo prendere queste informazioni e tramutarle in entità? Molto semplice, tramite la sintassi diciamo a livello di home assistant che è MQTT. Adesso vi faccio vedere un esempio. L'unica cosa da tenere bene in considerazione è se il valore che vogliamo catturare è di questo tipo, cioè già scritto subito dopo l'uguale, oppure è di questo tipo JSON, quindi ci sono delle parentesi graffe, perché la sintassi sarà leggermente diversa. Ora andiamo in Viso Studio Code, per esempio andiamo a prendere un MQTT qualsiasi, che potrebbe essere anche tranquillamente questo, però magari non binari sensor, ma lo vediamo come sensor, quindi prendiamo questo, dove vogliamo andare a leggere questo topic, se noi copiamo questo topic e andiamo a cercarlo qua, vi faccio vedere, eccolo qua, troveremo che per leggere la temperatura in questo caso è questo, quindi 2589, quindi questo state topic qua non farà nient'altro, tramite questa clausola value, quindi tramite il value template, di restituire 2589. Se invece è di tipo JSON, quindi quello che vi dicevo prima, quindi non c'è scritto il numero diretto, ma ci sono delle parentesi graffe, e a questo punto la sintassi qua sarà value.json, vediamo se c'è qualche esempio esatto, tipo questo, dove vado a navigare la struttura JSON addirittura, quindi vado a dirgli sotto temperatura, sotto tc, quindi se noi, per farvi vedere, andiamo qua, quindi su questo state topic, lo ricerchiamo sempre qua dentro, sperando ci sia, si c'è, qua abbiamo il nostro JSON, che vedete da questa parte, e per andare a navigare questo valore, ovviamente, dobbiamo scrivere, non solo, adesso qua, me ne sta creando nmila, ok, non solo temperature, ma dovremmo mettere temperature, punto, questo qua sotto, tf, e a questo punto ci restituirà questo valore qua. Infatti, noi qua abbiamo fatto proprio quello. Con questo, ragazzi, è tutto, spero che il nuovo format vi sia piaciuto, quindi appuntamento alla prossima puntata con nuove richieste, quindi mi raccomando lasciateci scritti nei commenti le vostre appunto richieste, e noi cercheremo di rispondervi nella prossima puntata di Tetto Fatto Domotica. Se il video vi è piaciuto, il contenuto vi è piaciuto, vi invito a lasciarci un bel like, a iscrivervi al canale per ricevere tutti i nostri aggiornamenti. Grazie ragazzi, alla prossima!